www.marizopoli.it interessante spunto di riflessione di Utrend su dati di Banca d'Italia 2024 che dice che la ricchezza delle famiglie italiane è principalmente nelle case. Secondo Banca d'Italia le abitazioni pesano il 47,6% sulla ricchezza totale al netto dei debiti. Tra il 50% più povero delle famiglie questo dato sale al 75% e scende al 33% tra il 10% più ricco. Dopo le abitazioni ci sono le azioni non quotate e le partecipazioni in società, ad esempio quelle di un imprenditore della sua azienda con il 12,9% e i conti correnti e i conti di depolito per il 12,3%. Dove troviamo le assicurazioni ramo vita con il 7,2% e i fondi comuni al 6,5%. In generale il 56% delle ricchezze italiane è fatte di attività non finanziarie e il 44% di attività finanziarie. Alla prossima!